Con Giovanni Jovini al termine di questa sfida con lo Santo Antonio Abate, mister, una partita vinta dagli ospiti, oggi che cosa non ha funzionato nel Procida? Tenendo conto che chiaramente il primo tempo abbiamo dovuto far debuttare ancora una volta un giovane, perché chiaramente sia per problemi di lavoro e per il resto non riusciamo ad avere la formazione titolare, però nel secondo tempo quando ci siamo messi in un certo modo avevamo la partita in mano. Poi c'è stata questa espulsione su cui potremmo discutere per una vita, così come tanti altri piccoli atteggiamenti arbitrali, le dico una su tutto, all'inizio non voleva farci giocare la gara l'albitro perché riteneva che le porte dovesse uscire dal campo, cioè le porte quelle lì diciamo che vengono utilizzate per gli allenamenti e dovevano essere buttate dietro il muro di cinta, quindi la diciamo tutta da questo punto di vista. Un albitro secondo me che poteva avere un metro di giudizio un pochino più bilanciato, però comunque non vale neanche la prima prendersene con l'albitro perché l'errore che ci ha condannati poi ce lo siamo cercati noi, è l'unico fondamentale che avevamo cercato di sistemare, non siamo riusciti a sistemare bene. Comunque ripeto nel secondo tempo ormai trovato l'assetto definitivo avevamo la partita in mano, da un momento all'altro potevamo solo vincerla, avevamo preso anche un palo, poi dopo siamo andati sotto in dieci, eravamo completamente spilanciati perché avevamo quasi diciamo quattro punte in mezzo al campo, per cui giocando in dieci anche lì abbiamo finito per rischiare ulteriormente, abbiamo messo ancora un'altra punta, però Scognamillo lo sapevamo che aveva determinate giocate e una delle giocate di Scognamillo ci ha condannato.